mi date un bacio In 150 ora siamo in 46 Grazie David Giusti Alla prossima se ne vediamo i amici è un'ottima è vero sono un po meno sicuri devo essere sincero per quale motivo non hanno proprio una sicurezza totale perché puoi sbagliare la mia domanda anche perché è mamma mia istoc'is ognostia non c'est pas de lol le covid c'est pas de lol franchement c'est pas de lol c'est pas de lol è un po' di vita differente, mire. qui stanno lo so mettere molto bene però questa donna mi aveva rilassato questa mattina morta è veramente barato ciao giuseppe Giuseppe Sanfilippo, bacio Madame Magida Thank you for watching this Si, è come che Todo il tempo devo stare facendo una cosa Cosa hai fatto di bello oggi? Ciao Ciao Giuseppe Ciao Manuel Ciao Leonica Andrei Ciao